Una stagione turbolenta quella del Mugnano, un anno pieno di insidie, difficoltà per il caro tenuto tornato in promozione dopo un'annata triunfale in prima categoria. 23 punti ottenuti, quarto ultimo posto e squadra in piena zona play-out, quarto peggior attacco del campionato e terza peggior difesa, 12 sconfitte e soli 10 punti al Santa Filomena. Il padrone annunziato ha deciso di affidarsi ad un nuovo tecnico per queste ultime sette giornate. Alla guida dei rossoneri è Corino Gaito, allenatore cervinarese che lo scorso anno ha ottenuto la salvezza sulla panchina del San Martino. Tra l'esperto tecnico nel recente passato anche Serino è Audox Cervinara. Gaito farà l'esordio domenica al Santa Filomena nel match contro l'FC Avellino, gara che potrà risultare determinante in chiave salvezza. Il trainer Caudino è il quinto allenatore della stagione. La preparazione era iniziata con Telemaco Russo, ora il Polisi, che ha abbandonato prima dell'avvio del torneo. Successivamente Edoardo Cargiulo, Alfredo Arnone e Alfonso Valente hanno provato a rianimare la situazione senza fortuna. Vedremo se Gaito riuscirà in un'altra impresa.